Quest'oggi vi parlo dell'azienda Sweet Tears e la storia di questa azienda. L'azienda nasce a Praia Amari, in provincia di Cosenza, nel 1993-1994, quando disegnai un cuore e lo regalai a mia mamma, maestra Geppina Gorgillo. L'azienda, trovai un finanziamento e l'azienda rimase latente per qualche anno, dal 1993 al 1997 circa. Nel 1997 trovai viti per televisione Bobo Vieri e Paolo Maldini e viti per televisione questi due giocatori e decisi di farli diventare amministratori delegati dell'azienda. Mia mamma li contattò e diventarono amministratori delegati e tutt'oggi sono amministratori delegati, dei bravi amministratori delegati. Quindi vi ho detto la verità su questa azienda. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.